Non mi è riuscito perché c'è la gamma inclinata Niente, c'ero Tentone è entrata al minimo Solo di nuovo C'è la gamma inclinata per portare Vabbè, vabbè, dove ci piano Tentone è entrata al minimo C'è 5, mi preparo per l'atterraggio Ovviamente sto sempre al vento contro Ora ci atterro dei lato Ci atterro, ho visto come so dove si andare E basta sto vicino Non c'è modo di farlo Per l'atterraggio è preciso Sotto il BWR che teoricamente ha registrato Stavolta spengo prima il visore Vabbè, di 10 cm Ma spesso un altro toro Spero se lo avrai visto Spero che la bella non ha bomettato di nuovo Allora, vediamo No, guarda che vi aremo Sta a posto quello Sono lenta, dopo l'acidità sono lenta e non è male. Vediamo se... ho avuto fretta a spegnere sto coso. Vediamo se i GbR ci sono tutte a due. Vediamo se i GbR ce ne sono due. Due. No, c'è soltanto due che non è pericolato. Cancella, ce ne sono uno, ma lei non lo so. Questo è il livello delle 8 e 35. Ora il primo, il secondo non lo so. Ne due ne uno. Ma poco fa è numerato così era. Di 7 minuti e 19. Ma ragazzi questo è il primo. Questo l'ultimo forse sbaglio io che lo spengo troppo presto. Il secondo non lo registra mai. No, non lo so se è la micro sd che fa stifo. Però... certo che... Non è che... Mi posso fidare tanto eh. Vabbè ora mi scemo un poco tutto. Tanto una volta che sono qua basso i finestrini e mi resta ancora molto poco. E non so nemmeno se faccio un altro rigardo. Il telefono è stagato in carico. Però è spento. No, non è spento. Tanto a GoPro non ho inquadrato niente. Il DVR non c'è.